Ciao a tutti amici di Fido e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo dei nomi per cani maschili e femminili più diffusi. Per educare al meglio il proprio cucciolo, la prima cosa da insegnargli è il suo nome. Esattamente come succede per il nostro, il nome che daremo al cane lo identificherà e lo accompagnerà per sempre. Ma non solo, il nome rappresenta per lui un vero e proprio richiamo che deve poter riconoscere perché catturi all'istante la sua attenzione. Pertanto è un elemento fondamentale nell'educazione del cucciolo. Quando sentire il suo nome, il cucciolo deve poter capire che ci stiamo rivolgendo a lui, che domandiamo la sua attenzione per chiamarlo, impartirgli un ordine, sgridarlo, incoraggiarlo a fare qualcosa o anche solo per offrirgli una carezza o una ricompensa. Quindi come fare per scegliere il nome più adatto? Non ci sono regole prestabilite, ma è importante che per il cucciolo sia un nome facile da memorizzare e che quando lo sente reagisca di conseguenza. e capisca che è proprio lui che stiamo chiamando. Ecco 26 nomi per cani, uno per ogni lettera dell'alfabeto. Iniziamo con i nomi maschili. Argo, Biscotto, Chester, Diablo, Ettore, Fedele, Giotto, Acico, Illy, Jack, Kevin, Lillo, Mambo, Nelson, Oliver, Paddy, Quincy, Rex, Spank, Tobia, Ulisse, Vega, Will, Xeno, Iago, Zack. I nomi femminili sono invece Akira, Bettany, Chantal, Dorothy, Emily, Febe, Ginger, Holly, Iole, Julie, Kira, Lola, Macchia, Nala, Olimpia, Phoebe, Quinn, Roxy, Sally, Tophie, Usha, Vivian, Vilma, Xena, Yuki, Zoe. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per supportarmi. Vi do l'appuntamento al prossimo video.